Ciao a tutti, eccoci qua pronti per continuare la nostra rosellina e la mia è rimasta qui perché Charlie chiaro non l'ha portata avanti questa notte e quindi niente, la devo continuare io e in particolar modo questo mi fa piacere perché la continueremo insieme eravamo rimasti al quinto giro, adesso dobbiamo fare ancora un paio di giri sicuramente prima di terminare tutto il fiore perché lo voleva fare piuttosto ricco questo fiore non sprechiamo tempo, scatta da qui il cronometro quindi 1, 2, 3, via e continuiamo con il sesto giro dobbiamo fare una catenella vi ricordate la lasciamo così un pochino morbida perché almeno dopo la vediamo quando andiamo a chiudere poi qui prendiamo le due porzioni posteriori all'incrocio quindi questa è questa, è una sola però, cioè 2 ma non 3 ok? e ci andiamo a fare la maglia bassa ecco qua e poi questa volta invece che 4 catenelle ne facciamo 5 quindi 1, 2, 3, 4 e 5 poi all'incrocio qua di questi due petali successivi anche questo ve lo ricordate dalla scorsa volta andiamo a mettere l'uncinetto e facciamo un'altra maglia bassa ancora 5 catenelle 2, 3, 4 e 5 all'incrocio dei petali nella porzione posteriore mettiamo la maglia bassa abbiamo fatto 3 archetti di supporto no scusate, 2, sì 2 archetti di supporto, mi sembrava 3 per il petalo successivo quindi 2, 3, 4 e 5 nell'archetto, scusate, nel punto di passaggio prendiamo questa porzione qua e facciamo niente perché ho messo il filo male quindi questa porzione qua e ci facciamo la maglia bassa 5 catenelle 1, 2, 3, 4, 5 l'incrocio dei petali la maglia bassa 1, 2, 3, 4, 5 catenelle sempre lo stesso punto qui e ci facciamo la maglia bassa e adesso l'ultimo quindi le ultime 5 catenelle 1, 2, 3, 4 e 5 e qui invece andiamo a mettere l'uncinetto sulla catenella iniziale ok, questa qua e ci facciamo la maglia bassissima a chiudere il sesto giro se non mi sbaglio il sesto giro adesso dobbiamo fare il settimo dove dobbiamo mettere all'interno quindi dell'impalcatura di questi 6 archetti 1, 2, 3, 4, 5, 6 le cose no, le cose le maglie che andranno a formare il petalo più grande quindi necessariamente saranno più maglie e ci sarà sempre una maglia alta doppia comunque al centro quindi facciamo una catenella dove chiuderemo poi il settimo giro e iniziamo qua dentro il primo archetto con una maglia bassa come sempre poi una mezza maglia alta come sempre anche qui poi invece che due maglie alte ne mettiamo tre ho pensato di metterne tre quindi una due e tre ok poi ci mettiamo una maglia alta doppia se voi volete provare altre combinazioni potete tranquillamente farlo anche mettere un pioppiolino che ne so al centro di questi petali però vabbè io ho deciso così poi scendiamo con tre maglie alte quindi uno due tre una mezza maglia alta e la maglia bassa io penso che così sia carino il petalo è ben o male proporzionato quello precedente del giro precedente nell'archetto successivo una maglia bassa una mezza maglia alta tre maglie alte quindi una due tre una maglia alta doppia e poi scendiamo giù quindi altre tre maglie alte una due e tre la mezza maglia alta e la maglia bassa perfetto archetto successivo maglia bassa la mezza maglia alta tre maglie alte una due e tre la maglia alta doppia ok tre passaggi per chiuderla e poi tre maglie alte questa è la prima questa è la seconda questa è la terza la mezza maglia alta e la maglia bassa belli questi tre petali mi piacciono proprio ecco me lo dico da sola così almeno non c'è bisogno che qualcuno vada a commentare a dirmi a dirmi che bello che brutto no vabbè commentate mi raccomando commentate iscrivetevi al canale quindi maglia bassa mezza maglia alta tre maglie alte maglia alta doppia questo ormai ve lo sognate anche la notte poi tre maglie alte per scendere quindi una due tre la mezza maglia alta e la maglia bassa e sono quattro petali ne mancano due ancora quindi maglia bassa mezza maglia alta io spero di stare nell'inquadratura tre maglie alte una una due e tre poi la maglia alta doppia mi sta prendendo un lapsus vabbè quindi la maglia alta doppia poi tre maglie alte una due e tre la mezza maglia alta e la maglia bassa ok bella maratona qua è l'ultimo petalo quindi una maglia bassa una mezza maglia alta tre maglie alte una due e tre la maglia alta doppia tre maglie alte quindi una due tre mezza maglia alta e maglia bassa chiudiamo sulla prima catenella questa che era rimasta in evidenza ed è questa qui con la maglia bassissima in particolar modo chiudiamo il settimo giro sono passati sette minuti quindi ci sono voluti sette minuti per fare un giro di una rosellina io non so chi riesca a fare ad esempio un maglione in mezz'ora però vabbè c'è qualcuno che ci riesce per cui buon per loro io in sette minuti faccio sei pedali di una semplice di una semplice rosa d'irlanda allora adesso truffo un po' perché io spengo un attimo però arresto anche il counter ok ecco l'ho arrestato perché devo andare a vedere che cosa ho ragionato qui ieri sera di metterci e non me lo ricordo per cui lo vado un attimo a guardare sul quadernino comunque ripeto il counter è stoppato adesso io quindi sempre fuori dal counter avevo deciso di fare ieri nel senso questa qui la volevo mettere al centro metterci una rete rosa d'irlanda rete e adesso se ci riesco lo facciamo quadrato con i quattro angoli altrimenti se non ci si riesce lo facciamo rotondo è chiaro che non vi faccio sbagliare spero no vabbè quindi lo provo io prima vedete ad esempio la parte di collegamento tra il fatto che qui ci sia la rosellina e quest'altra parte che invece deve andare appoggiata sul tavolo ci sono riuscita quindi questa la facciamo senza sbagli senza nulla e dopo ci ristudio e poi nei giorni successivi vediamo comunque no vi piace credo è carino riparte il counter eccolo qui e facciamo l'ottavo giro quindi facciamo quello che abbiamo fatto prima necessariamente però con numeri differenti quindi la catenella va bene poi qua dietro prendiamo le maglie sempre all'incrocio quindi questa è qua e ci facciamo la maglia bassa ok e poi facciamo 6 catenelle questa volta quindi 1 2 3 4 5 6 all'incrocio dei petali quindi quindi qua ormai questo credo avrete imparato a farlo bene e non ve lo dimenticherete più sarà il tormentone dell'autunno quindi 3 4 5 e 6 ma chi mi segue già lo sapeva fare di andare a prendere le maglie qua voi mi avete scoperta troppo tardi secondo me e se ancora non siete iscritti al canale state facendo uno degli errori più grandi della vostra vita 3 4 5 e 6 poi ma youtube secondo me dovrebbe mettere dei contenuti esclusivi per gli iscritti li ha messi per gli abbonati però vabbè l'anno scorso ci ho provato ma non avete gradito molto questa iniziativa e per cui vabbè poi l'abbiamo tolto l'abbonamento comunque c'erano dei contenuti esclusivi per gli abbonati e le persone che si erano abbonate erano anche contente però le altre non tanto e non capisco perché questa cosa avviene solo in Italia comunque perché all'estero voglio dire se uno vuole fare un abbonamento e riceve dei contenuti in più lo fanno tranquillamente è buon mentre qua io non ce l'ho io ce l'ho e poi vabbè e l'abbiamo tolta questa opzione però per gli iscritti certo ci vorrebbe un premio in più rispetto a chi magari guarda qua sta qui a sbirciare e non si scrive non so per quale motivo ok allora vabbè l'abbiamo fatto ma magari ho questa cosa ognuno per conto proprio perché non vi ho detto nulla erano maglia bassa 6 catenelle e quindi l'impalcatura come prima 6 spazi 1,2,3,4,5,6 e tutto uguale nel nono giro noi andiamo a camminare un pochino qua sopra così a maglie bassissime e ci portiamo verso un po' il centro ma non proprio il centro dell'archetto diciamo che massi via verso il centro qua così va bene e facciamo che cosa prima 3 catenelle che ci vanno a sostituire la prima maglia alta la prima di 6 maglie alte quindi questa più altre 5 1,2,3,4,5 quindi là in mezzo all'archetto al centro dell'archetto 1,2,3,4,5 ecco ci sono 6 maglie alte 1,2,3,4,5,6 poi facciamo 3 catenelle quindi 1,2,3 e nell'altro archetto qua ci andiamo a mettere altre 6 maglie alte quindi 1,2,3,4,5 e 6 ricordatevi quindi anche questa cosa 3 catenelle quando dobbiamo andare al centro di un archetto o ci camminiamo a maglie bassissime o chiudiamo il giro precedente in un determinato modo ma qui non potevamo farlo perché avevamo le maglie basse quindi ricordate quando non si può chiudere in altre maniere che vedremo in seguito quindi 4,5 e 6 maglie alte camminate a maglie bassissime per raggiungere la metà dell'archetto che dovete raggiungere poi facciamo 3 catenelle e ne abbiamo messi 3 di questi cosi adesso facciamo sempre 6 maglie alte nel quarto archetto quindi 1 2 3 4 5 6 3 catenelle 1 2 3 non dire gatto se non l'hai nel sacco quindi la terza è questa e andiamo a mettere 6 maglie alte nell'archetto quindi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 catenelle e le ultime 6 maglie alte non il sesto archetto quindi 1 2 3 4 5 e 6 3 catenelle 1 2 e 3 ok adesso andiamo sulla terza catenella iniziale questa qui e ci facciamo la maglia bassissima per chiudere che era il nono giro ecco e l'abbiamo un pochino l'abbiamo un pochino appiattita questa cosa non tanto perché ancora voglio dire qui ci andrà tutto il merletto eccetera siamo arrivati quasi a 15 minuti con le chiacchiere e tutto saranno anche 20 e quindi io per oggi vi saluto quindi un bacio un saluto un abbraccio quello ormai è classico e ci vediamo non lo so quando seguitemi sugli altri social Instagram Twitter Facebook pagina Facebook per sapere gli appuntamenti che abbiamo per questo lavoro e mi raccomando stay tuned sempre uncinetto fra su tutti i social grazie a tutti i sociali e ci vediamo a tutti i sociali